quanti muove il fuori per schiena ora il grande ripeto di pollo grandissima ripeto di pollo e grandissima giocata di pepe esce carol esce pepe sul blocco in angolo per baldasto ma non può ricevere lungo per il capitano ancora per te perché alza la tripla assegno simone pepe di vantaggio balla in mano baldasto tripla se l'ho resto baldasto fuori ancora per baldasto da sette metri lorenzo baldasto bravo a i u u u u u u u u u